Presidente Miranda, è singolare che oggi, nella giornata che pensa ai diti dei bambini, a Foggia si cerebri il bisogno del bambino foggiano, non di altri bambini che appunto non sono locali. Guardi, questa è la motivazione che mi ha spinto a essere presente in rappresentanza ovviamente dell'intero Consiglio Comunale, perché in questo momento di grave crisi economico-finanziaria e sociale che viviamo soprattutto in queste città, il club service Kivanis mi ha piacevolmente sorpreso dedicando tutta la sua attività progettuale ai bambini della nostra città, che vivono un momento difficile come un po' tutti quanti noi. Rispetto però agli disagi che vivono nel mondo degli adulti, che possono anche comprendere in qualche modo le lungaggini della politica o le mancate risposte delle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo il dovere a chi invece delle difficoltà che vive dovrebbe vivere il momento dello studio, dello svago, della spensieratezza, si trova purtroppo in condizioni assolutamente disagiate. Abbiamo il dovere come istituzione di dare loro risposte. E quindi anche club service come quello del Kivanis, che svolgono talvolta anche un ruolo di sussidiarietà rispetto alle mancanze istituzionali, devono essere assolutamente in qualche modo coadiuvati e dunque ecco la presenza del sottoscritto in rappresentanza dell'intero Consiglio Comunale e dunque un grazie al club Kivanis che questo pomeriggio regala un momento di spensieratezza e dunque agli bambini della comunità di San Giuseppe che certamente devono essere considerati non soltanto nella giornata internazionale sull'infanzia e questo è un mio impegno personale.